Salve Serofino, come va? Ah, e chi è? Non mi riconosci? Io sono il tuo futuro e tra i 30 anni se continui a non rispettare le regole, io ti aspetto, ecco come diventerai fratelli no, non hai capito? Io faccio il furco, perché fai sempre il furco, io se continui così tu andrai all'eserro e guarda come diventerai se farai sempre il furbo e non rispetti la regola allora fino a dritto e rispetta le regole e svetta di fare il furbo, chiaro? Adio!